ciao a tutti un piatto che non può mai mancare sulla mia tavola il giorno di pasqua sono le uova ripiene con la crema di tonno sono super gustose e facilissime da preparare ecco a voi la ricetta completa grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.